Oggi tratteremo il test della dilutizione, ricordando che la dilutizione è quella funzione neuromuscolare, complessa, vitale e fondamentale come la respirazione e il battito cardiaco che serve a trasportare il bolo alimentare o la semplice saliva dalla bocca fino allo stomaco, passando attraverso faringe ed esofago senza impegnare le linee superiori ed inferiori senza quindi praticamente indurre nel paziente i colpi di tosse e quant'altro. La dilutizione è una funzione vitale fondamentale neuromuscolare che può essere perturbata in modo patologico e viene studiata soprattutto nei soggetti anziani e prende il nome di disfagia. La disfagia di solito è successiva a quadri neurologici come l'ictus o quadri di emenza e quant'altro. Ora noi non tratteremo la dilutizione in termini di disfagia ma tratteremo della dilutizione dal punto di vista non patologico ma disfunzionale parlando della dilutizione atipica che è la dilutizione atipica infantile o viscerale che è quella condizione che il paziente normale nel suo sviluppo dovrebbe perdere nei primissimi anni di vita, intorno ai 2-3 anni per acquisire la dilutizione tipica o somatica o dell'adulto che noi appunto adesso spiegheremo. Come avviene? Come dovremmo vedere di indagare e scoprire un'eventuale dilutizione atipica e soprattutto in presenza anche di dilutizione atipica andare a valutare le prove e la funzionalità respiratoria e fare delle prove fonetiche perché quando è coinvolta la dilutizione di solito è coinvolta anche la masticazione ma anche la ventilazione nasale ottimale ed anche la fonazione cioè quelle funzioni neurovegerative fondamentali possono essere perturbate in cui è strettamente coinvolta la bocca. Prima di passare all'indagine, all'esame, al test della dilutizione noi facciamo un rapido scendolo su quella che è l'eziologia praticamente della dilutizione atipica che è multifattoriale e essendo quindi causata da cause diverse noi dobbiamo fare un'attenta raccolta annestica che è la prima fase prima di fare il test della dilutizione. Il test della dilutizione è un test boffo funzionale che può essere accompagnato da indagini strumentali radiografici o radiografiche o fotografiche che praticamente però diciamo si concreta nelle sue parti essenziali una raccolta annestica cioè comprendere eventuali cause eziologiche che possono sostenerla e poi valutare se c'è e poi con l'esame morfo funzionale valutarla. L'esame morfologico è un esame fatto a riposo l'esame funzionale è fatto in fase dinamica cioè svolgendo l'atto di conditorio. Le cause possono essere degli stili di vita come un allattamento artificiale protratto del tempo uno svezzamento ritardato o una dieta povera di cibi soli come abitudini viziate oppure oltre agli stili di vita le abitudini viziate, il succhiamento del dino, delle labbra, della lingua il succhiamento del ciuccio, il rosicchiamento delle unghie. Lo stesso bruxismo può essere un fattore disfunzionale le patologie ododino-orongoiatiche come la respirazione orale, le adenoide ipertrofiche, le consiglie ipertrofiche le disfunzioni che portano adottiti e anche bannattie allergiche come la rinite allergica o l'asma bronchiale oppure fattori ereditari come la forma del palato, le vie aeree, la diatesi allergica, il tono muscolare, la disforfosi dentoscheletriche che sono su base ereditaria. Poi ci possono essere anomalie posturali della lingua, anomalie posturali della mandibola, anomalie posturali del capo e del collo, nonché disfunzioni neuromatorie come cerebrovesione, cerebropatie e patologie odontoiatriche che sono legate a dismorfosi primarie dell'apparato stomatognatico. Tutte queste possibili cause devono essere richieste e indagate nella raccolta diagnostica e precede invece il test diagnostico della decoluzione atipica. Il test diagnostico è a fianco, praticamente, nella raccolta bannestica, però sottolineiamo l'importanza di chiedere al paziente se soffre di cefalea, se è attrappamento delle orecchie, se soffre di avogini o vertigini, se ha dolori vertebrali, disturbi e dolori alla corrispondenza verso l'attivazione del tempo mandibolare, sensazione di tensione agli occhi, altre patologie come farigiti, larigiti, bronchiti, tracheiti, ricorrenti, mal di gola, coliti, stanchezza, sonnolenza, insonnia o nervosismo, se il grado di rendimento del bambino a scuola non è ideale ed eventuali altre considerazioni in vivo sanitaria fatti da pediatri, otepegici, fisiatri. Dal punto di vista, passiamo adesso nel test, diciamo, della diminuzione dopo questa curata raccolta bannestica, noi abbiamo un esame morfo funzionale. L'esame morfologico è quello che noi facciamo a riposo. L'esame sia morfologico che funzionale ha una fase di valutazione estrorale e una fase di valutazione intronale. Quindi, ripeto, l'esame morfo funzionale in cui si fa una valutazione morfologica a riposo, una valutazione funzionale nell'atto di compiola, una fase funzionale dinamica, o si fa sia della componente estrorale sia della componente intronale. E quindi, per quello che noi facciamo, mettiamo questo paziente a riposo e facciamo una valutazione delle linee di simmetria del viso, sia quelle verticali che quelle orizzontali, facendo molta attenzione ad individuare nel paziente la tipica fascia salinodea. È possibile, però, dobbiamo andare a indagare eventualmente un semplice paziente respiratore orale con occhiaie accentuate, con alterazioni della piramide nasale che fa sì che il paziente presenti un naso piccolo con ali nasali stretti o delle labbra incompetenti. Un particolare rilievo, oltre alla respirazione appunto alla fascia salinodea e alle labbra incompetenti, in merda appunto alle labbra. Si valuta la loro competenza delle labbra per vedere se sono ipertoniche o sono ipotoniche e si valuta anche la lunghezza delle labbra, la loro inclinazione o posizione, la brocheria e la retrocheria, cioè il tessuto gengivale perché se è arretrato o è produso, quindi una seconda classe di prima o seconda divisione e poi si fa una valutazione anche della linea mediana del viso, delle labbra deviazioni, come abbiamo detto, dal punto di vista delle simbetrie. Un altro elemento molto importante che va valutato dal punto di vista morfologico intraorale è praticamente il frenulo linguale corto, ma alla stessa maniera nella valutazione extraorale noi valutiamo invece il frenulo mediano superiore che praticamente dobbiamo fare attenzione che non si entra al posto fra i decisivi perché potrebbe essere causa di un diastema che si produrrà poi nel corso degli anni. Nella valutazione poi morfologica intraorale a riposo, oltre al frenulo che abbiamo visto, corto che è causa frequente di postura bassa linguale, faremo una classica valutazione che fa l'ottocontista, cioè valuteremo la formula dentale, il rapporto molare con il canino di destra e di sinistra, l'orgetto e l'overbite, la linea mediana superiore e inferiore, il postale saluto di denti e gingive, la forma del palato che può essere normale e logivale, la presenza di consigli e di patrofi. In particolare attenzione però va apposta, sempre in esame di tonale, alla postura della lingua. La lingua deve essere posturata praticamente sullo spot palatino, sul palato, ma può essere posturata in modo scorretto dietro gli incisivi superiori, fra i denti e dietro gli incisivi inferiori. E quindi praticamente questa posizione della lingua, in più guarderemo la lingua perché potrebbe essere a bordi seghettati, quindi potrebbe avere le indentature, oppure il dorso presentare l'aspetto di carta geografica. Queste sono le valutazioni morfologiche che noi facciamo, estrauralmente ed intronalmente. L'esame invece funzionale, dinamico, quello importantissimo, il punto chiave della deduzione, per questo sono andato anche veloce, si fa sempre in fase estronale, in movimento e deve essere valutata la posizione rispettivamente della lidabra e della lingua durante la fase di deduzione. Il paziente, vediamo prima, lo facciamo dedudire la sua saliva, poi gli faremo dedudire i cibi liquidi e poi eventualmente cibi solidi. Ed è importante vedere la cinetica lingualabiale, cioè vedere praticamente che il paziente quando deglutisce deve deglutire praticamente con labbra e guance a riposo e deve venire a contatto i denti che noi possiamo sentire appoggiando le mani sui masseterri, sui temporali, avviene questa contrazione dei muscoli, praticamente cranio-mandipolari coinvolti, o le maturi mandipolari, coinvolte nel serramento dei denti durante una diminuzione sommatica dell'adulto. Quindi una diminuzione sommatica dell'adulto deve venire con la lingua che si va ad appoggiare sulle ruche palatine in corrispondenza della punta, in corrispondenza del spot palatino, della zona di repere o delle ruche palatine, come vogliamo chiamare, e il dorso si solleverà appoggiandosi sul pallino. Labbra e guance riposate, i muscoli che vanno in contrazione e potremo parlare così di diluzione normale. Invece in caso di diluzione atipica, nel distretto extrorale, si osserverà una tensione a carico soprattutto delle labbra. Il bambino potrà fare questo, cioè mettere la lingua in trapporla fra le arcate e si vedrà bene la contrazione dell'orbicolare delle labbra, oppure addirittura si potrà vedere una incompetenza del labbra mentoniero, oppure l'ipertono come abbiamo detto. Addirittura durante l'atto di pulitorio è possibile vedere il mentoniero, quindi il mento, trasformarsi a pallinga da golf per attivazione del mentoniero. Questo è un'accentruzione del solco labio-mentoniero. Quindi con l'esame invece questo extrorale, potremo anche andare a palpare muscoli, masticatori, levatori e vedere che in alcuni casi, anche con il movimento delle labbra, ci può essere una contrazione, in altri casi, addirittura dove vedremo pazienti che interpongono lingua e labbra fra le arcate, in questo modo non vedremo assolutamente nessuna contrazione a carico degli elevatori, in particolar modo masseterre temporale che possiamo palpare. Nella valutazione introrale, qui è il punto fondamentale, che è il punto chiave del test, è quello praticamente di far sì che mentre il paziente diglutisce noi afferriamo il labbro inferiore con delicatezza ma con fermezza e lo spingiamo in basso mentre lui diglutisce guardando la lingua che si interpone fra le arcate. La lingua che si interpone fra le arcate e questo ci permette praticamente, la lingua, la saliva che passa tra le arcate, ci indica praticamente che siamo di fronte ad una diglutizione tipica con interposizione della lingua fra le arcate e noi sappiamo che in posizione di riposo il freeway space esiste fra le arcate dentali tra 0,5 fino a 2 mm. Nell'atto diglutitorio invece gli elevatori alzano la mandibola come alzano l'ossolioide e si deve alzare per alzare poi le biglottite che si abbasserà. Praticamente in questo atto diglutitorio i murdi denti devono venire a contatto per azione del masseterio temporale e pericodeo interno e stivano a riscire a contatto senza il minimo sforzo, senza apprezzare nessuna contrazione della muscolatura periodale di labbra e guance. L'atto diglutitorio della masticazione, inoltre la diglutizione, è come la masticazione deve avvenire in entrambe le arcate dei denti. Quindi potremmo avere dei quadri, un quadro diciamo abbastanza chiaro di una diglutizione atipica rispetto a una diglutizione normale che conviene con labbra e i denti a contatto senza sforzo, lingua sulle rughe palatine e nessuna contrazione della muscolatura orofacciale. Potremmo avere invece due tipi più ingravescenti, più gravi di diglutizione atipica. Uno, una deviante con spinta semplice in cui si ha contrazione evidente dei muscoli orofacciali, orbicolare, mentoniero, levatori, mandibolari, con spinta linguale anteriore e arcate dentali che vengono a contatto serrati. L'altra invece, la deviante con spinta più complessa, in cui oltre alla contrazione evidente dell'orbicolare e del mentoniero, con la pallina d'arrofo, non avviene nessuna contrazione degli elevatori della mandibola, una forte spinta linguale anteriore e le arcate dentali non sono in contatto fra di loro, ma aperti con lingua e guanti e labbra interposte fra le arcate. Questo ci dice che siamo di fronte a una diglutizione atipica. Ecco, quindi, in fase dinamica, con l'esame introrale, possiamo vedere, abbassando il labbra inferiore con fermenza, la ingioposizione della lingua e possiamo valutare poi, osservando con l'esame exorale bene il movimento, potremo vedere anche se siamo di fronte a una spinta semplice della lingua, cioè interposizione fra le arcate anteriore o una spinta complessa in cui avviene anche sui lati, quindi interessa anche i settori laterali della bocca, con l'interposizione della lingua e delle labbra fra le arcate. Quindi abbiamo così indagato il test della riduzione. Ma il test della riduzione non è un test che viaggia da solo, viaggia in affiancamento a quello della respirazione e nella respirazione è importante perché se il paziente è un respiratore orale, evidente, ok, sappiamo che dobbiamo correggere, dobbiamo reggere la riduzione, ma se è un paziente un po' celato, dobbiamo avvalirci di queste tre prove importanti. La prova di Rosenthal, la prova di Glaser e la prova della sufficienza orale. La prova di Rosenthal è far respirare 20 volte il paziente con il naso, poi con una pollice o un indice chiudiamo una narice spingendola verso l'alto e lo facciamo respirare per 20 volte con una narice e poi facciamo con l'altra e vedere se respira bene con queste narici con la prova di Rosenthal. Poi faremo la prova dello specchio di Glaser, prenderemo uno specchio, proprio lo specchio di Glaser, lo mettiamo sotto il naso, facciamo respirare e dall'immagine che abbiamo dall'ombra che avviene sullo specchio noi potremo praticamente capire se una narice ventila di più rispetto all'altra, noi dovremo valutare questo aspetto, eventualmente lo specchio di Glaser, valutarlo e misurarlo e poi confrontarlo nelle fasi successivi, negli step successivi dell'alertica. Poi avremo il test della sufficienza orale, un test bandalissimo, basta chiudere, far chiudere le narici, far ispirare con forza il paziente e poi stappare. Se le narici restano in questo modo chiuse vuol dire che il paziente praticamente ha una insufficienza alare, le cartilagini alari del naso, se invece apre belle le narici avrà una sufficienza alare del naso, questo poi sarà un esercizio che compirà il paziente per migliorare proprio l'attività delle cartilagini alari per evitare l'insufficienza alare e tornare ad una sufficienza alare. Ovviamente poi se il paziente ha problematiche sulle vie aeree, noi faremo, consiglieremo il lavaggio della mucosa rinosinusale con la tecchia dell'unitilota e quant'altro. L'altro esame importante che facciamo fare per capire anche la postura linguale, avere una visione diretta, sono le prove fonetiche. Le prove fonetiche ci fanno capire se il paziente ha una respirazione nasale come N, G, eccetera e soprattutto noi faremo compiere le quattro consonanti lingua palatale a complessità maggiore L, N, T, D associate alla vocale A che apre la bocca e quindi faremo pronunciare il paziente a L, N, T, N, D. Se il paziente praticamente mette bene la lingua L, N, T, N, D con queste consonanti lingua palatale a complessità maggiore sul palato, bene. Se invece il paziente farà L, N, T, D, D, vorrà dire che siamo di fronte a un paziente con postura bassa linguale e quindi un paziente che più facilmente è in deduzione atipica e dovremo supportare il paziente con gli esercizi di mioterapia orofacciale, di mioterapia e di esercizi linguali e anche il supporto di un logopedista o comunque delle prove per gli esercizi fonetici per riabilitare praticamente la fonesi del paziente. Quindi ricapitolando il test della deduzione, è un test mirato a valutare la deduzione atipica nell'adolescente, nel bambino, nell'adolescente, nell'adulto, è un test che oltre a raccolta malnestica si avvale di un esame morfo funzionale che viene fatto extoralmente ed intoralmente e a questo esame morfo funzionale noi abbiniamo le prove della funzionalità nasale, respiratoria, delle diere superiori e le prove che sono importantissime, se il paziente tende a respirare con la bocca se ha un blocco della pervietà delle diere superiori e con le prove fonetiche per valutare una fonesi eventualmente, un timbro nasale e quindi un impegno di queste vie o soprattutto anche la postura linguale contendo almeno quelle consonanti, lingua palatale, l, n, t, d, abbinate alla vocale a che sono quindi con le consonanti a complessità maggiore che di solito diciamo evidenziano una postura bassa linguale. Ovviamente valuteremo i fregni quanto abbiamo già precedentemente detto nel nostro test della deduzione. Vi ringrazio con attenzione ad un prossimo video.